lorenzo spolverato ha festeggiato il suo compleanno in modo insolito chiuso nel tugurio del grande fratello insieme ad altri concorrenti nonostante la lontananza da shayla gatta i ragazzi hanno organizzato una festa e hanno potuto brindare con gli altri inquilini shayla visibilmente triste non ha potuto partecipare alla festa ma ha scambiato tenere i gesti d'affetto con lorenzo attraverso il vetro che li separava durante la festa elena prestes ha rivelato di conoscere un segreto che coinvolge lorenzo suscitando curiosità e tensione tra i concorrenti alcuni di loro come julia bruschi luca giglio tommaso franci e amanda lecciso sembrano essere a conoscenza di questo misterioso segreto che potrebbe mettere in cattiva luce il concorrente lombardo anche javier martinez ha accennato a questo segreto creando ulteriore scompiglio nella casa lorenzo e shayla intanto si sono scambiati dolci parole vicino alla porta che li divide manifestando i loro sentimenti l'uno per l'altra mentre la tensione per il segreto di lorenzo cresce i concorrenti si interrogano su cosa potrebbe essere così grave da non poter essere rivelato pubblicamente nel frattempo il grande fratello cerca di risollevare gli ascolti con nuovi colpi di scena mentre il toto segreto impazza sul web la casa del grande fratello è pronta a essere scossa da rivelazioni che potrebbero cambiare il corso del gioco e mettere a dura prova i concorrenti resta da vedere come lorenzo affronterà questa situazione e cosa riserverà il futuro grazie a tutti